Salve a tutti, in questo webinar verrà illustrata la soluzione Project Learning Insights realizzata da Project Software in collaborazione con Microsoft. Questa soluzione nasce per venire incontro alle esigenze delle maggiori università italiane per affrontare il periodo della didattica a distanza e avere uno strumento utile a monitorare e a mantenere un livello qualitativo alto delle lezioni. Se un'università utilizza Microsoft Teams come strumento di collaborazione, al momento ci sono delle limitazioni, perché il prodotto non fornisce una reportistica calata su quello che è il mondo della didattica e della partecipazione degli studenti. Inoltre, Microsoft Teams non storicizza i dati, o meglio, come possiamo vedere dalla successiva slide, le Teams Meetings e tutte le call che avvengono all'interno di Microsoft Teams vengono storicizzate per un massimo di 30 giorni. E qui viene l'aiuto della soluzione Project Learning Insights. Perché? Perché grazie alle tecnologie offerte dal cloud Microsoft Azure è stato possibile costruire un'architettura per far sì che tutte le call, i dettagli di ogni call, vengano storicizzati su un Azure Secret Database. Dopodiché un Power BI o un Power BI Embedded su Azure accedono a questi dati e da questi dati è stato possibile realizzare la dashboard che potete vedere nello screenshot. L'utilizzo delle graffe API call records è lo strumento per recuperare il dettaglio delle call che avvengono all'interno di Microsoft Teams. Questo esempio è possibile trovarlo anche sulla documentazione pubblica Microsoft, ma vi dà, diciamo, idea di quelli che sono i contenuti estraibili dalle call records. Ogni qualvolta avviene una call all'interno di Microsoft Teams, Microsoft storicizza questi dati per un massimo di 30 giorni e tramite una chiamata a quelle che sono le API pubbliche di Microsoft è possibile andare a recuperare i dettagli delle call. Quindi, ad esempio, se una call è stata una call one to one oppure una call di gruppo, le modalità, la data di inizio della call, la data di fine e, ad esempio, chi è stato l'organizer della call. La Project Learning Insights si compone di tre moduli che Project Software ha reso disponibile anche sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. La prima versione entry, che è open source, è disponibile su GitHub e Project Software offre supporto alla installazione della soluzione. questa permette l'inizio della storicizzazione dei dati. Quindi l'architettura che è stata descritta a poc'anzi viene deployata sul cloud Microsoft Azure dell'università e i dati cominciano ad essere salvati su un Azure SQL database. Dopodiché si può collegare una dashboard Power BI per rendere visibili questi dati a livello di reportistica. Dopodiché Project Software offre un'estensione della versione entry o la versione core. Questa soluzione integra le informazioni della didattica all'interno dell'università e quindi rende la dashboard più parlante. Per esempio si possono dare visibilità a determinati corsi all'andamento dei corsi durante un lungo periodo al confronto fra più docenti all'andamento ad esempio della durata dei meeting lungo un periodo oppure la media degli studenti che hanno partecipato ad una determinata call lungo un periodo. Dopodiché infine con l'ultimo modulo Project Software estende la versione core con dei pacchetti di personalizzazione in base alle esigenze di una determinata organizzazione o università. Qui possiamo vedere un esempio della dashboard relativa alla versione entry della Project Learning Insights. Potete vedere l'ID delle lezioni effettuate lungo un periodo a che ora sono iniziate e a che ora sono finite. Gli studenti che hanno partecipato ad una determinata lezione e la piattaforma che hanno utilizzato e soprattutto anche a che ora sono entrati gli studenti e a che ora sono usciti. Con la versione core invece si vanno ad integrare quelli che sono i dati della didattica ad esempio il nome di un corso il docente titolare l'anno accademico e svariati altri con quelle che sono le call che avvengono all'interno di Microsoft Teams. Questo permette alla dashboard di essere più parlante e far sì che si possano effettuare delle analisi più approfondite. Qui potete vedere un esempio ovviamente i dati sono stati mascherati per una questione di privacy però potete capire che già all'interno di questa dashboard potete andare a fare delle analisi più approfondite andando a scegliere un corso di riferimento e vedere gli studenti che hanno partecipato a quel determinato corso. Inoltre su un'altra pagina del report si possono andare a fare delle analisi dei meeting e delle lezioni il trend il numero di studenti che ha partecipato la piattaforma utilizzata e la durata rispetto al periodo scelto. Invece con l'ultima pagina della versione core si possono andare a fare degli esempi di confronto fra due corsi universitari fra tre corsi universitari ma anche confronti fra più docenti e quindi vedere come sono andati lungo un periodo e gli studenti collegati all'interno di questi corsi riferiti a determinati docenti. Infine con la versione custom della Project Learning Insights si può andare a rispondere a determinate esigenze all'interno di un'organizzazione oppure di una università. Qui ad esempio abbiamo utilizzato un Data Factory un Azure Synapse Analytics quindi l'Azure SQL Database invece di essere collegato direttamente al Power BI passa per delle pipeline realizzate ad hoc di manipolazione di dati che possono andare a toccare algoritmi di machine learning quindi integrati con quelli che possono essere cognitive services dati di intelligenza artificiale resi poi fruibili attraverso un Data Warehouse che è l'Azure Synapse Analytics fino ad arrivare al Power BI che abbiamo visto poc'anzi però con dati più customizzati realizzati ad hoc in base alle esigenze di una determinata università oppure di una organizzazione. Andiamo ora a vedere quello che sarà il risultato finale sulla dashboard Power BI che verrà alimentata dai dati memorizzati sull'Azure SQL Database. In questa schermata che vi ho mostrato all'inizio sulla parte sinistra potete vedere determinati filtri ad esempio un periodo quindi si può scegliere le lezioni effettuate effettuate durante un periodo si può andare a cercare il corso che più interessa analizzare oppure il corso effettuato da un docente nello specifico. Sulla schermata di destra vedete l'elenco di tutte le lezioni ovviamente possiamo andare a selezionare qualsiasi di queste lezioni e andare a vedere il dettaglio ad esempio esplodendo questa vediamo che questo corso viene effettuato da questo docente quindi andando ad esplodere ancora di più si può andare a vedere il dettaglio queste sono tutte le lezioni effettuate da questo docente in queste date a partire da questa determinata ora fino a quest'altra determinata ora se andiamo a selezionare il dettaglio di qualcuna di queste possiamo andare a vedere che questi sono i partecipanti a questa determinata call effettuata il 22 ottobre dalle 11 e 24 alle 3 e 34 in questo modo possiamo andare a vedere anche tutti gli studenti che hanno partecipato a che ora sono entrati a che ora sono usciti dalla lezione e che piattaforma hanno utilizzato ovviamente i dati vengono poi aggiornati anche su queste tabelle quindi un docente ci sono state 23 23 studenti collegati ed è stata svolta una lezione che ha avuto una durata di 250 minuti ovviamente poi andando a riselezionare tutto quanto come era prima possiamo andare a vedere i totali quindi possiamo vedere che la media della durata di tutte le lezioni effettuate in questo periodo ha una durata media di 166 minuti ci sono state 71.000 lezioni svolte 39.000 utenti collegati con 5.307 studenti in basso a destra potete vedere una torta con la percentuale delle piattaforme più utilizzate dagli studenti per partecipare alle lezioni tramite Microsoft Teams nella seconda pagina si possono vedere altri tipi di report ad esempio l'andamento della durata media delle call lungo un periodo quindi gennaio, ottobre, novembre, dicembre e l'andamento degli studenti collegati quindi qui potete andare potete immaginare che selezionando determinato docente si possono andare a vedere gli studenti collegati lungo un periodo per questo determinato docente oppure per un determinato corso quindi selezionando un determinato corso si può vedere la media della durata lungo un periodo e la media degli studenti collegati lungo un periodo nell'ultima schermata che riporta similmente quello che abbiamo visto sulla schermata 2 però possiamo andare a fare il confronto fra più docenti quindi se si selezionano diversi docenti fra di loro possiamo andare a vedere il confronto quindi a seconda del docente selezionato quindi con il colore opportuno si può andare a vedere quanti corsi ha effettuato lungo un periodo e anche i corsi effettuati per singolo docente lungo un periodo vi ringrazio per l'attenzione e spero che questa soluzione possa essere utile per monitorare al meglio l'andamento della didattica a distanza e mantenere un livello qualitativo molto alto grazie a tutti